Ancora una volta un dissing sulla mia persona, falsità sulla mia persona, un video da una persona scorretta che mi ha, mi ha, sono stato invitato sul suo canale, ma farò una reazione, una parte della reazione sul mio canale Twitch adesso, perché questa storia non finirà, tengo a dirvi questo. Questa storia continua, dissing, soldi e monetizzazione sulla mia persona, sul mio nome, falsità sulla mia persona, ero in live su Twitch e adesso in live su Twitch farò ancora soldi sulla mia persona, ancora attacchi sulla mia persona, senza alcun consenso da parte mia, e offese su offese che mi difenderò sempre al meglio su tutti. Ragazzi vi chiedo solo di pazientare, sono un po' nervoso, vi chiedo solo di pazientare, pochissimo, pochissimo e partiremo. Ero in live, ero in live, sono stato aggredito da messaggi di un altro video su YouTube, quindi da una persona che neanche menziono, perché neanche se lo merita, altri soldi, altre falsità sulla mia persona, ora non finisce qui, ora farò una parte di reazione sul mio canale Twitch Riccardo Rosario, poi vedremo su YouTube, storie Instagram e tant'altro. Non finisce qui, non finisce qui perché c'è stato un nuovo video sulla mia persona, nuove falsità, nuove cose che non sono assolutamente vere. Ora farò una parte di reazione sul mio canale Twitch, a questo video che mi è stato fatto ingiustamente. Un attimo ragazzi, per favore, solo un attimo. Ero in live, bellissima live con tutti, con tanti di voi, dove ancora una volta sono stato diffamato, senza alcuna prova, da uno YouTuber che neanche menziono. Non finirà qui, adesso farò una reazione, una parte della reazione, per poi fare e valutare se fare o un video su YouTube, di risposta, o fare altro, o fare storie su Instagram. Valuto, valuto al meglio, nel frattempo se volete vedere questa parte, ma se fate su web app, vedete nel mio canale Riccardo Rosario, altrimenti non basta. Ancora una volta è stato utilizzato il mio nome per fare soldi e per dire falsità, ora basta. Però adesso farò una reazione, una parte della reazione a questo video che mi è stato fatto sul mio canale Twitch, riccardo Rosario, altrimenti non basso, fate su web app e venite. Ma non finirà perché forse farò storie su Instagram, canale YouTube, forse farò un video sul mio canale YouTube, perché questo video proviene da YouTube. E valuterò tante altre cose, quindi restate aggiornati sul mio profilo Instagram, perché presto ci saranno tante novità. Tra adesso, reazione, parte 1. Ok. Ci siamo. Ci siamo ragazzi, pochi minuti. Madonna, non ce la faccio più, vi giuro su Dio, non ce la faccio più, sono stremato, le storie non caricano, quello che non va bene, quello che non va bene, non ce la faccio più, non va niente bene, non va niente bene. Allora devo un attimo fare di nuovo per favore una storia, vi chiedo solo di presentare pochissimi minuti, perché purtroppo non è andata a buon fine la storia. Porca puttina, io non voglio, guardate, è una cosa assurda, mannaccia, ma è una cosa assurda, una cosa assurda, non va niente bene, niente bene, niente, se ha sempre qualcosa nella vita che non va, c'è poco da fare, è assurdo. Continuo la storia, solo un minuto, perché forse farò tante altre cose, video risposta su YouTube, storie risposte sul mio Instagram, perché sono stanco di tutta questa situazione, di tutti questi attacchi gratuiti e senza alcuna prova, e forse ci sarà anche altro, quindi restate connessi nelle mie storie Instagram, perché forse farò tante altre cose, tante altre cose, compreso storie sul mio profilo Instagram, reazioni sul mio canale Twitch, video sul mio canale YouTube e tante altre cose che valuterò, perché sono stanco di tutto questo, sono stanco di tutto questo, stanco. Sul mio profilo Instagram, sì, perché vi aggiornerò con delle storie sul mio profilo Instagram, oltre anche a forse un video risposta sul mio canale YouTube e tante altre cose, quindi restate aggiornati sul mio profilo perché sono stanco di tutto ciò, la verità verrà a galla. Sul mio profilo Instagram, sì, perché farò delle storie sul mio profilo Instagram, perché nessuno mi attacca con falsità e senza prove, forse anche tante altre relazioni sul mio canale Twitch e video risposta sul mio canale YouTube, più tante altre cose, vi terrò aggiornati. Sul mio profilo Instagram, sì, nelle mie storie Instagram, ci saranno tanti aggiornamenti, tante novità, soprattutto anche parte 2, parte 3 e tante altre cose. Sul mio profilo Instagram, ma non solo, perché valuterò anche un video risposta sul mio profilo... Sul mio profilo Instagram, ma non solo, nelle mie storie Instagram ci saranno tante novità, anche probabilmente sul mio canale YouTube, sul mio canale Twitch, lì caldo lo sarò tantino in basso, e non solo, tant'altro, perché mi sono scocciato, basta. Ci siamo, ci siamo, sono abbastanza nervoso ragazzi, vi chiedo scusa, sono un po' nervoso per tutta questa situazione, perché trovo non giusto tutto quello che mi sta lavorando.